È stato un grandissimo campionato e sono veramente contento di come ho aiutato la squadra. Sì, ma ci dai, ci diciamo un difetto di per sé, perché qui ne parlano benissimo, però è un difetto questo mister. È difficile dirlo, perché non ne ha mostrati, non ne ha mostrato tanta cattivenia, questo è un po' il suo, è anche un po' il suo, tra virgolette, difetto, se si può chiamare così, ma direi che con una squadra si deve usare sempre il bastone e il canote, quindi è stato veramente bravo. Senti, che campionato adesso ti aspetti? Pensi che la Juventus sarà ancora forte come la sua salita strada che stanno con la vegano terra? Fortissimo! Sì, sicuramente la Juve ha fatto un grandissimo campionato e dovrà ripeterci questa campionata, perché ci sarà un po' più forte. Quindi in Roma guerrita ci sono ancora un po' di compagni, di altri compagni, un po' più forti. Prima di tutto di tenere tutta la rosa e poi piano piano ripartire a fare qualche legge in forma più. Grazie!